Oggi è il 16 dicembre 2017, siamo alla scuola Regina Mundi, questo è il mercatino di Natale. Ci sono prodotti di tutti i tipi, ciotole, oggetti religiosi, crocifisso, cappelli, ponci, scaldacolli, da bambino tipo cartoni animati. Tutto creato da me, fatto da me con le mie manini. Facciamo zainetti, bavagline, tanti altri articoli in particolare dedicati ai bambini. Realizzati da artigiani che traggono la loro materia prima da bidoni della nafta del Madagascar e di Haiti. Lo scopo della nostra vendita è totalmente benefica, è il recupero dell'abbandono scolastico nel quartiere di Corpetto. Con questa iniziativa dei mercatini di Natale sosteniamo anche la scuola Regina Mundi. Venite numerosi, vi aspettiamo!